L'Argonauta In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Turris Cari Argonauti, tra i molti scrittori che la cultura che si autodefinisce liberal, democratica o progressista non sopporta o mette addirittura al bando, contraddicendo le sue stesse fondamenta teoriche, c'è Louis-Ferdinand de Stouche, più noto come Céline. La sua accettazione o non accettazione procede spesso in modo umorale e a seconda delle circostanze contingenti e del clima politico, sia nel suo paese di origine che all'estero come in Italia. Ad esempio, in Francia recente una polemica sulla sua presenza in un'antologia di classici. Poiché lo scontro è ideologico e non letterario, non se ne esce. E finché prevarrà ancora l'ideologia, per Céline e altri grandi scrittori ci sarà sempre ostracismo e polemica. Ebbene, poiché siamo soli di andare controcorrente, abbiamo deciso di dedicare la nostra puntata proprio a Céline, dato anche che sta per chiudersi l'anno cinquantenario della sua morte avvenuta, il 1 luglio 1961. Il tutto è stato affidato alla nostra regista Roberta di Casimirro, che è riuscita a trovare un rarissimo brano della voce dello scrittore che canta una canzone da lui stesso composta ed ha selezionato i brani dalle sue opere. Ecco dunque una puntata maledetta dell'argonauta dedicata a uno scrittore che si ritiene maledetto per definizione. E' la voce di Louis Ferdinand Céline, uno dei più grandi e discussi scrittori del Novecento. Questo brano, Reglamin, che tradotto vuol dire regolamento, porta la sua firma. Céline compose questa un'altra canzone, Anneculin, Il nodo scorsoio. Vive catica la puta, c'è lo che ne ama il mattino, all'overriso crepe il grano, né il mio cuore fidale né il rosso, io profondis, io tedio. Molto si è detto di lui, spesso a torto. Sicuramente Céline è stato un personaggio controverso, la sua stessa esistenza lo testimonia. Gli ultimi anni della sua vita trascorsi da Reietto, alla periferia di Parigi, a Medona, ma molto di lui si è tralasciato come intellettuale, narratore, protagonista, interprete, lettore lucido del suo tempo. Il serena intellettuale ancora oggi divide in barazza, ma quel che ci rimane di lui a quasi 51 anni dalla morte è la sua straordinaria opera letteraria. Il suo genio e il suo tormento, quel suo stile inconfondibile, quella sua capacità di riuscire a dare grande dignità letteraria nel linguaggio parlato, discorsivo, orale, attraverso un ritmo poetico e musicale che qualcuno ha definito jazz, attraverso quella petit music presente in tutti i suoi scritti, dove le parole e le sillabe sembrano animarsi e volteggiare tra le righe, dove la poesia e la musica si intersecano magistralmente con i canoni eterni dell'espressione dei sentimenti e dei pensieri. Lasciamo a lui la parola. Colloqui con il professor Y. E, cari miei, Gaston la s'allunga. Lui trovava che, per conto mio, dovrei cercare di rompere il silenzio che mi ha danneggiato tanto. Romperlo, una buona volta. Venir fuori dal guscio per far riconoscere il mio genio. Sì, gli faccio. Lei non sta al gioco, concludeva lui. Non che mi rimproverasse niente, ma però è un mecenate. Siamo d'accordo, il Gaston. Ma è un commerciante, il Gaston, pure. Allora, mi sono messo a cercarmi, svelto svelto, senza buttar via un minuto, qualche attitudine a stare al gioco. Con la formazione scientifica che ci ho, figuratevi se non ho capito cosa vuol dire stare al gioco. L'ho capito illico, immantinente, che, innanzitutto, stare al gioco era andare in onda alla radio, ferma ogni altra bega. Andarla a stralogare, la prima cosa che mi capita in mente, ma a far ripetere il mio nome cento volte, mille volte. Bello chiaro. Chi sei? La saponetta Grandi Bolle? Il rasoio senza lame Garagnana? O il geniale scrittore Illegì? Conta niente. Conta minestra. Stessa tecnica. Pantomima per un'altra volta. Oh, ma lei ha degli amici autentici, tutto vibranti delle sue disgrazie. State zitti, i peggio temibili. In croce che ti vogliono, infarcito, castrato vivo, budelle fuori. Prova come mi trattano. Le lettere che ricevo, cagone, scroccone, che mi chiamano come che li ho fatti soffrire ai miei ammiratori, compromessi. A considerare qua, nella mia cripta, i crimini, i torti, dio l'amarezza, che cos'è che rimastico? Amico, mi dico, dove ti sei cacciato? Ti sei suonato col flauto all'incontrario? Ti sei no attirato i veri topi? Avessi modulato nel senso giusto? Avresti portato dietro la gente vera, obbriacato l'elite, i cuori puri, scaraventato tutto ai carri armati, al macello, ai fosfori, alle rosterie, la minerie, le trippe, i diritti dell'uomo e fraternità. Ci sarebbero non troppi nastrini per te, collari, contratti, paste. Un buco nella cortina di ferro ci avresti. Potresti rientrare, uscire a piacimento. Hai non modulato nel senso giusto. Mea colpa. La gran pretesa della felicità. Ecco l'enorme impostura. Quella che complica tutta la vita. Che rende la gente così velenosa, canaglia, indigeribile. Niente felicità nell'esistenza. Il principio del diavolo non fa una grinza. Aveva ragione, come sempre lui, di inchiodare l'uomo alla materia. Non è che ci sia voluto molto. In un paio di secoli, pazzo d'orgoglio, dilatato dalla meccanica, è diventato impossibile. E così lo vediamo oggi stravolto, saturo, ubriaco d'alcol, di petrolio, diffidente, pretenzioso, universo col potere in secondi. Eccolo, il gran miracolo moderno. Pasquale Panella ha tradotto in italiano reglamant, regolamento di conti di una carogna. Io mi ti troverò, carogna, sarà una brutta sera. Ho qui per te due buchi neri nella mia mira. Somaro dall'anima vacca. Tre libri proibiti dello scrittore francese ce n'è uno più proibito di tutti, se così si può dire. Ce ne parla Mario Bernardi Guardi. All'insegna del libro proibito. Non esistono due selinne. Il medico dei poveri, che trasforma Largò, la lingua dei bassi fondi, in una prosa letteraria straordinariamente innovativa, è lo stesso libellista che sfodera un antisemitismo feroce, allucinato, sghignazzante. Dunque, prendere o lasciare, senza stare a far prediche. E senza censure. Ed invece, per quel che riguarda le bagattelle, la censura c'è. Fu tolto dalla circolazione nel 1982, tre mesi dopo la comparsa in libreria, traduzione di Giancarlo Pontigia, edizioni Guanda, perché la vedova di Selin, Luissette Almanzor, attraverso i suoi avvocati, minacciò di intentare una causa agli incauti riscopritori. Il libro circolava prima e ha continuato a circolare dopo. Grazie ad edizioni pirata, arriva nelle mani di pochi eletti, i quali almeno si scandalizzano con cognizione di causa. Gli altri si indignano a prescindere. No, così non va, scrive giustamente Riccardo De Benedetti nel suo Selin e il caso delle bagatelle, edizioni Medusa. Fatecelo leggere il libro proibito. Siamo adulti e vaccinati. Vogliamo capire. Dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ad esempio, che l'antisemitismo in Francia non l'ha inventato Selin, ma gli illuministi con Voltaire. Per concludere, sogniamo ad occhi aperti, immaginandoci un mondo in cui le cose possono andare in modo diverso da quel che sappiamo, con una delle più note rubriche del professor Marco Cimmino. La Biblioteca Immaginaria Recensioni di libri mai scritti, ma che avrebbero potuto esserlo. Autori vari Non nous sont trompés Gallimard 2012 Quando tornò in Francia dopo l'esilio danese nel 1951, Louis Ferdinand Selin dovete vivere come un appestato. In testa ai suoi accusatori c'era ovviamente Jean-Paul Sartre, che tacciava Selin di antisemitismo, il quale ricambiava Monsieur Tartre con una fredda e sprezzante ironia. Oggi, a 61 anni da quel ritorno, un gruppo di scrittori e di critici francesi ha cercato di riparare a quella scomunica, pubblicando questa silloge di saggi e di interventi, tesi a ristabilire la grandezza e la modernità di Selin e in qualche modo a chiedere scusa. Già, chiedere scusa per i torti commessi in quegli anni in nome di una democrazia e di un comunismo che avrebbero alla fine dimostrato di essere inconciliabili l'una con l'altro. Sartre e Brecht, tutti i guru di quella stagione, oggi ci sembrano incredibilmente miopi. Fortunatamente la Francia del 2012 ha trovato la forza e il coraggio per cercare, se non di rimediare, di ammettere i propri errori. Magari, anche in Italia, comparisse qualcosa del genere nelle librerie. Eccoci dunque in porto, dopo questa puntata maledì. Un cordiale saluto a tutti e a risentirci domenica prossima. Lo vedi, ti stai sbriciolando, piangi, marcendo, chissà se sei più nauseante, morto o vivente. Ti faccio fare io il raro affare di respirare. Ho qui con me il mio e il tuo lascia passare per l'ossario delle infanzie più care. Ma guarda chi c'è la zia Hortensia e il suo piccolo Leo e c'è Clementina e la Lenza Totò bisogna dire a questi amici che la festa è finita a morte la sorte che cosa mi importa e da morte gli inganni che il vento si porti. Turbamenti e tormenti.